Tu pensa a quelli che si stavano preoccupando, che piangevano perché avrebbero visto un Giovanni debilitato, demotivato, tristissimo. Il girello è gratis, nessuno ha il 150 euro, Nicola è un amico, il tecnico che si sta occupando della protesi che nel frattempo… Ma perché devi sfruttare anche le persone? Perché tu devi scontare ancora 400 euro, fino a quando scondi quei 400 euro? E di grazie che non vado a mangiare? Perché ha offerto Beppe, perché se non offriva Beppe oggi e voglia il carrello, ho sbaglio? No, non passo il carrello. Comunque, come non passo il carrello? L'hai visto? Allora, Antonio, a lui, qua si chiamano tutti Antonio. Antonio, a te! Sta andando, sta andando, ma senti dolore? Sì, sembra che non abbia mai dovuto amputare, non abbia mai amputato la carne. Ti fa male? Non fa male, non fa male. Sono comunque attaccato ad un antidolorico, H24. 40 mg di merofina, 120 ditoradol e 8 mg di zofran. È per questo che non fa male. Però la notizia vera non è questa. La notizia vera… Che ricovero più breve della vita mia. Che domani esce già. Perché questo è… Ma io avevo parlato, avevo detto, tenetelo almeno una decina di giorni. Ma infatti pure io ho detto… Cioè, due giorni di ricoverato. Manco degli hospital per l'appendicito. Ma io l'ho detto pure io a Calizio. Ho detto, fammi rimanere… Non parlo domicilio. Almeno posso sfruttare bene bene Antonio, mangiare e cose. Fatta no, domani te ne puoi andare, stai bene. Stai bene? Da un punto di vista fisico, probabilmente, ma psicologico, psichiatrico. Stai buongluvi, dove stai? Stai buongluvi, dove stai? Stai buongluvi, stamattina l'ho Conte, sopra la cicletta. Vedi che l'ho messo io. Solo che a te sarebbe stato più visibile. Che stavamo re. Eh, lo so. Avevo già fatto 35 minuti dopo aver fatto i 45 del circuito. Sì, sì. Stavamo re. Non vedi che sto dimagrendo? Sto dimagrendo. Ho perso 7 kg. In quanti anni? Due mesi e mezzo. Ah? Ah? È vero, Tino? È giusto, giusto. Eh dai, diciamole le cose. Diamolo Conte perché ti lo costo. Diciamolo perché è importante. Diciamolo Conte. Diciamolo Conte. Diciamolo Conte. Diciamolo Conte. Cioè, io... Che cazzo ne sai? Diciamolo Conte. Quell'abbraccio, quell'abbraccio ha avuto un valore eccessivo rispetto a quello che effettivamente è stato poi... Capito, Tino? Eh, lo so. Sei tu. Sei tu. Sei tu. Che gli fai uno di questo? Che gli fai uno di questo? Buongiorno. Gli tagli una gamba? Eh? E non può. Ha già tagliata la gamba. Ha già tagliata. E se gli tagli altri è ancora peggio? È ancora peggio perché... No, ti prego. Ti prego. Almeno fagli fare il cangurotto perché sennò sarebbe drammatica la situazione. No, ma se gli da adesso di te le gambe così con le gambe su e invece no. Lo dobbiamo accompagnare noi o se ne deve andare col girello a cellare. Come le mutanti? Che pure li mettono a disposizione. Ma quando è che si stanno mettendo i cellari? E poi... E poi... E poi... Che si mette lui. Ah? Che copra sei tagli più grandi per farli andare comodo. Ah, ma no. Ma sei tagli... Diciamo che la situazione... Sta degenerando. No, e quindi è rientrata. È rientrata completamente l'allarme. È rientrato. Un po' di tempi. 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 Quali sono i tempi? A parte... Ti ha detto Nicola, il tecnico, quanto tempo ci metterà per fare la protesi. Lui la metteva a fare subito. Ha detto io non ci prendo niente. Nel momento in cui prendo le misure la faccio veloce. E qui viene a casa di quinto potere a prendere le misure. E si esce già domani. Che amico viene qua. Mandali immediatamente, per favore, la carta d'identità. Perché è stato... Non ci ha parlato. Non mi ha chiamato mai. Però ha chiamato anche a me. Dice... Le ho parlato e ho chiamato, ma non me l'ha mandato. Eh, perché sto giù. Non ce l'ho addosso. Eh, si, si. Quando lo potrai fare, fallo. Ma come sa che io la mando? Va bene. La riabilitazione, invece. Con Nicola possiamo parlare. Perché Nicola ci dà una mano in quello. Magari, data la situazione, non credo ci sia bisogno di fare grossi spostamenti. Sì, quello sì. Questa la prendo come una minaccia vera. Farmi ricaricare bene bene. È una minaccia. Tu lo sai che si può andare a fanculo anche con una gamba sola? Ma lo sai che ci puoi andare a fanculo con i due con una terza... Si può anche fare. Si può anche fare. Te lo dico così lo sai. A voi che avete scritto, capito? Avete scritto, commossi. Con l'osso. Eh? Con l'osso. Per ora è solo per ora. Due uomini e una gamba. No, tre uomini e una gamba. Che potremmo avere? Si. Facendone richieste. No, no, no. Vado là a richiedere. Perché loro hanno già detto che è mia. C'è già il nome mio là. Non so in quanti giorni si può andare a richiedere. Però si può richiedere. E te la prendi. Perché ci sono... Sarebbe bello prenderlo a calcio in bocca con la sua stessa gamba. È un'idea che mi... A me mi serve un'altra idea che ha la gamba. È croccante questa idea. Diteci cosa... Tre uomini e una gamba qua. Per ora e solo per ora. Una e mezza. Una e mezza. Una e mezza. Una e mezza.